Raga, facciamo attenzione al nostro rientro. Siamo giusto un po' circondati. Esatto. Vai, di lì. Dove? Lì dove ci siamo. Tu guarda sempre intorno e poi. Sì, sì. Mi guardo anche dietro. Sì, bravo. Porca vacca mi son cagato addosso. Cos'era? No, no, niente, mi sono sentito toccare ma era anche un rano. Mi auguro. Oh, oh. Raga. L'avete sentito? No, ma ragazzi, cosa che non vai? Di nuovo una voce di un bambino. È di nuovo la voce di un bambino. Ha detto mamma. Ha detto mamma, brava. Mamma. Ha detto mamma. È un bambino, ragazzi. È un bambino. bimbo bimbo c'è un bambino qui ma scusate un secondo ma sta piangendo sta piangendo bimbo 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 si si sta piangendo che veniva di qui veniva di qua bimbo ehi non piangere bimbo 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 ehi ehi raga raga ho di nuovo sentito la voce cosa ha detto sta male bimbo no 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 wait 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 ragazzi 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 fermi 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 un secondo fermi un secondo bimbo bimbo non mi interessa non mi interessa non mi interessa non mi interessa ma che cerca la sua mamma fidatevi questo è tutto pieno della strega questa ci vuole fottere te lo dico io stiamo perdendo la strada verso casa non facciamo cazzate non facciamo cazzate noi non sappiamo dove stiamo andando stiamo andando nella direzione opposta e questa cosa non mi piace per niente fidatevi andiamo a rompere il sigillo immediatamente non me ne frega niente del bambino non mi fido niente andiamo a rompere il sigillo subito fidatevi è sicuro che ci vuole far perdere del tempo ma sicuro come loro ma perché vuole farci perdere Paolo cosa stai dicendo cosa cosa c'entra perdere del tempo io posso rompere posso anche metterci un giorno intero ad arrivare a casa ok io il sigillo lo posso rompere adesso come domani come fa il fottore no 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 questo lo state dicendo voi eh cosa ne sai che invece non c'è un un orario preciso un giorno preciso io non lo so non lo posso io devo mettere in dubbio tutto io devo mettere in dubbio tutto e ha maggior ragione se mi sta facendo perdere del tempo forse forse perché mi serve del tempo forse perché c'è qualcosa sotto per rompere sto sigillo raga cosa fai voglio cercare su internet qualcosa per rompere i sigilli so che dobbiamo spostarsi ok spostiamoci non prendo niente andiamo sulla via di casa si bravi che non vedo niente cosa ti sei agganciato può essere occhio non mi piace non mi piace non mi piace anche questa sera del bambino che chiede aiuto ok guarda intorno guarda intorno furba e maledetta guarda intorno furba e maledetta è furba ok prende si lentissimo ma l'importante è che prenda un'attacca esatto perché voglio saperlo qua dicono che per rompere un sigillo bisogna nella maggior parte dei casi metterlo sotto l'acqua corrente ok acqua che scorre acqua che scorre ok un fiume un fiume ok si tipo un fiume ok 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 praticamente dice che quando si crea un sigillo eh bisognerebbe farlo quando tutto ciò che viene fatto quando il sole sale è un qualcosa legato al positivo ok ok tutto quello che viene fatto quando il sole scende ok è nel negativo ok quindi la rottura del sigillo va effettuata prima perché è la rottura bisogna romperlo ok hai dato che la maggior parte dei sigilli non sono comunque tutti brutti e negativi no certo certo ok per romperli bisogna farlo quando cala il sole bisogna eh immergerlo buttarlo sotto l'acqua corrente ok ma prima che sorga il sole ok e allora vedi è chiaro che ci fa perdere del tempo perché altrimenti poi effettueresti un qualcosa di positivo non di ah ok e allora è chiaro ci fa perdere del tempo ok ho capito ho capito ho capito sta aspettando che sorga il sole così ce la mette in quel posto quindi cosa dobbiamo fare? dobbiamo trovare un fiume dobbiamo andare a rompere il sigillo immediatamente a cercare un fiume come fai a mettere quella cosa nel fiume? andiamo a spaccare quella pietra passiamo che ora è? che ora è? le 5 e 5 ragazzi bisogna muoverci ma che ora sorge il sole? è alle 6 e 10 6 e 20 più o meno sei sicuro? quasi sicuro si raga abbiamo pochissimo vi rendete conto? abbiamo un'ora andiamo abbiamo un'ora abbiamo un'ora vedi che ci fa perdere te ci faceva perdere del tempo andiamo a casa veloce andiamo a casa veloce anche perché dobbiamo dobbiamo cercare di spaccare il sigillo non abbiamo capito tempo è murato ragazzi è murato dobbiamo far saltare la pietra dobbiamo far veloce giù di qua si giù occhio occhio raga a non cadere eh lo so perché è tanto tanto liquido lo so lo vedo ok si si veloce raga lo fa apposta lo fa apposta io me lo sentivo che lo fa apposta lo fa apposta altro che bambino raga non facciamoci distrare non facciamoci distrare non so ma ho tanta paura memorizziamo raga questo è un posto dove scorre l'acqua la sento scorrere lo so paolo è pieno è pieno dobbiamo memorizzare questi posti raga perché non avremo molto tempo se riusciamo a staccare il sigillo per poi tornare indietro non abbiamo molto tempo eh lo so paolo siamo in una nuova prima l'abbia finito il fiume no simò senti e io ho un po' di confusione nella testa non voglio sbagliare strada ho un po' di confusione nella testa per favore ok si 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 lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo c'è un corso d'acqua lì ok fatemi luce attraversiamola vai 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 dobbiamo andare ancora a casa raga per forza per forza è ripidissimo raga ma non potete capire ok 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 ce l'ho fatta non c'è la traccia si vai si stavo fuori ok 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 raga dove è caso da che lato è stiamo andati dritti per dritti quindi raga non dobbiamo scendere dobbiamo andare dritti 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 accelerate un po' dove è in piano per favore eh lo so accelerate un po' che non vedo dove metto i piedi ok sei là a casa sei là ok si è vero si andiamo muoviamoci muoviamoci ok dobbiamo andare dal sigillo dobbiamo trovare delle delle eh qualcosa per rompere le pietre per favore veloce eh è che se mi sento le dorsi in faccia raga non vedo niente vai ok vai 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 è lì è lì come cavolo la togliamo questa roba qua non lo so come facciamo a spaccarlo aspetta 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 dobbiamo si ma cerca qualcosa cerca qualcosa sono io sono io aspetta vai muoviti che manca manca poco guarda che viene via viene via questa cosa qui si toglie questa cosa qui si toglie e lo so e lo so lo so perché io la sentivo leggermente muovere con il piede si lì in mezzo si perché è tipo una specie di body malta qualcosa di strano una cosa la pala bravo 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 ok spostiamo si illuminati mi provo ok lascia la torcia io ti illumino ok aspetta aspetta dagli più in là più in là ok perché di là c'è una malta che si sta ok si la vedo anche lì in mezzo bravo 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 c'è c'è ancora via 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 nel fiume dobbiamo andare a portarla nel fiume dobbiamo andare a portarla nel fiume dobbiamo fare in fretta quanto manca 20 minuti no non ce la faremo mai 20 minuti paolo dobbiamo provarci raga cosa non mi funziona più la torcia vabbè siamo a posto lo sta facendo a posto andiamo lo sta facendo a posto perché vuole che ne vado a prendere un'altra andiamo aspetta muoviamoci io devo prendere il telefono se no se no non vedo nulla eh sì ok ok dai Simo ok 20 minuti no 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 non ce la faremo mai mi raccomando il primo che vede quel rivolo di fiume sì buttiamogli immediatamente dentro la pietra sì immediatamente tienila vai vai tutto in salita sì aiua raga cosa 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 me ha me ha me ha minato mi ha bruciata aspetta aspetta porca bocca guarda 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 Mi stai fumando le mani Ma questi bruciano Mi bruciano Ma mi bruciano la pietra Mi bruciano la pietra Sigilla 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 Buca la pietra Raga Troppo ti stanno fumando le mani Ma raga Sì sì è un sigillo demoniaco È un sigillo demoniaco Ne abbiamo proprio la prova Cos'è la prenderla? Dobbiamo prenderla Dobbiamo prenderla Manca poco Guarda che fra un po' sorge il sole Palo Prova Prova Allora io la prendo E corriamo subito Però ti prego girati E corri Sì vai Prova eh Vai ti prego Vai 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 Corri Vai 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 Dai raga Dai 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 Corri Lo so Corri Guarda che sta uscendo già la luce La vedo Sta uscendo la luce Sì vai 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 Sento il fiume eh Non ce la faccio più Lo sento Lo sento Aspetta Non ce la faccio più Ok Raga Ok Raga ok Qui Qua scorre Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta al pelo raga Al pelo Sta sorgendo il sole Si Cinque minuti in più ed eravamo morti Si ma bastava un minuto in più Sto morendo Sto morendo I'll be kind of days Took me a life Just to keep up the pace I'll be a god I'ma follow my ways I'ma be humble You'll stay in your place Fucked up a case You were fucking disgrace I say I say